Bidignaghi, svasvrashiniem, ili dobra pajalavats no moj kanal. Gli edizveni farmat youtube gzemi gavarim a video igrak. Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale. Sapete quanto io sia affascinato dalle periferiche bizzarre e dalle console portatili e oggi in questo video vorrei parlarvi di uno degli esperimenti più particolari su cui mi sia capitato di mettere le mani, ovvero impara con pokemon avventura tre tasti. Quale modo migliore di sfruttare un brand di successo se non quello di riutilizzare tutto il suo immaginario per mascherare un software educativo pensato per insegnare ad utilizzare la tastiera su una console che fa del touchscreen il suo punto di forza? Nintendo e The Pokemon Company decisero di fare sul serio con questo titolo e lo proposero in un bundle a dir poco esagerato dove il software di gioco veniva accompagnato da una tastiera bluetooth e da uno stand per il DS e so che sembrerà assurdo ma probabilmente questo è uno dei migliori acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Prima di spiegarvi il perché vi invito a supportare il canale come meglio credete lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle politifiche e seguendomi su tutti gli altri social. E se proprio vi sentite dei rialporacci potete sempre offrirmi un caffè virtuale dove troverete i miei mini-nacca... Siamo nel 2011 e da un anno circa il Nintendo DS ha accolto la quinta generazione dei mostri tascabili con gli episodi bianco e nero. Nell'attesa di ricevere il seguito ufficiale che comparirà solo l'anno successivo tra i tanti spin-off dedicati al mondo dei Pokemon spunta fuori dal nulla questa avventura tra i tasti un software educativo pensato per DS. L'idea di sfruttare i Pokemon nei modi più disparati non era certo nuova e di sicuro non si tratterà dell'ultima volta in cui vedremo i mostriciattoli in delle produzioni lontane dal gameplay della serie originale ma impara con Pokemon presenta numerose particolarità. Innanzitutto è stato sviluppato da Genius Sonority studio che magari a molti di voi non suonerà familiare ma che in realtà vede gran parte delle sue produzioni legate al mondo Pokemon. Infatti il team fu responsabile di produzioni di un certo livello come Pokemon Colosseum, Pokemon XD e Pokemon Battle Revolution senza contare la storia più recente dove Genius Sonority ha messo la firma su Pokemon Shuffle e Cafe Mix. L'altra grande particolarità del titolo è che Avventura Pokemon fu sì adattato e localizzato per il mercato europeo creando versioni apposite per l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo e l'italiano ma non uscì mai negli Stati Uniti d'America risultando ad oggi l'unico gioco Pokemon a non aver ricevuto una versione NTSC. Per una volta noi europei siamo stati decisamente più fortunati. Quindi prima di dare un'occhiata al gioco vero e proprio è doveroso spendere due parole sulla vera star di questa offerta ovvero il bundle composto dal gioco e dalla tastiera. Capisci di trovarti tra le mani un accessorio fuori dal comune quando il box della periferica è più grande della console stessa. Questa è ovviamente la versione pensata per il mercato italiano e il retro della scatola presenta adeguatamente le feature del gioco indicando sia la tipologia e la finalità del gameplay sia la mole contenutistica che vede la presenza di ben oltre 400 Pokemon da catturare sparsi in 60 percorsi diversi. All'interno della confezione troviamo il software di gioco con tantissimi libretti di istruzioni che spiegano nel dettaglio anche il funzionamento della tastiera. Due pile stilo necessarie per l'accensione della periferica uno stand pensato per appoggiare il DS mentre si digita che presenta anche un vano per inserire la cartuccia di gioco e trasportarla con facilità e ovviamente la tastiera. Compatta, pulita e ordinata la periferica non presenta alcun riferimento specifico al mondo dei Pokemon se non il logo Nintendo sul retro. Ma non c'è da rimanere delusi perché questa sua effettiva semplicità in realtà la rende perfetta per esprimere il suo reale potenziale quello di tastiera Bluetooth multiuso ma andiamo con ordine. L'unica critica che mi sento di muovere alla tastiera i cui tasti hanno un buon feeling è l'assenza di qualsiasi tipo di led e indicatore che ne segnalino l'accensione il corretto funzionamento e anche lo stato delle batterie. Nonostante questo la tastiera è estremamente facile da collegare al software di gioco una volta avviato Avventura Pokemon basterà mettere su ON la periferica e premere un tasto qualsiasi per associarla rapidamente al DS. L'input lag è nullo e la comunicazione eccellente. Dal gioco ovviamente non aspettatevi niente di che. Si tratta di un software pensato per un pubblico di giovanissimi ma svolge il suo ruolo educativo a dovere. Il mondo Pokemon è integrato con intelligenza ma anche il gameplay presenta diverse funzionalità che possono spronare a migliorare durante le partite e quindi ad imparare a digitare su tastiera sempre più con correttezza. C'è quindi un sistema di punteggio con tanto di combo e valutazione finale la possibilità di ottenere medaglie di diverso tipo in base alle prestazioni e anche qualche scontro occasionale con boss e Pokemon leggendari. Ovviamente conoscere i nomi dei mostri aiuta tantissimo ma la curva di difficoltà ben bilanciata permette di memorizzarli passo dopo passo. Nei primi livelli ad esempio sarà richiesto scrivere solo l'iniziale di ogni nome che comunque comparirà a schermo. Apprezzabile la completa localizzazione in italiano anche nel parlato peccato che in generale la realizzazione tecnica lasci un po' a desiderare. Gli sprite in 2D dei Pokemon sono animati alla buona e i percorsi che presentano una grafica in 2D con alcuni elementi poligonali non fanno di certo gridare al miracolo. Siamo lontani dalle idee presenti in Snap o dalla genialità di un Typing of the Dead ma il risultato finale è tutt'altro che insoddisfacente. È chiaro però come gli sforzi di Genius Sonority si siano concentrati più sul creare un'esperienza educativa e funzionale piuttosto che un videogioco a tutti gli effetti. La cosa geniale però è che la tastiera è Bluetooth quindi il suo utilizzo non è limitato esclusivamente al DS. Può essere associata a qualsiasi device che utilizzi questo metodo di comunicazione il che la rende una periferica estremamente versatile. Io ad esempio l'ho utilizzata col mio smartphone Android P20 e sebbene il processo sia meno immediato rispetto alla semplicità con cui viene riconosciuta dal DS anche su Android il procedimento è semplicissimo sempre che si leggano prima le istruzioni. Basterà accendere la tastiera tenendo premuto il tasto FN per far apparire la tastiera nella lista delle periferiche disponibili. Selezionandola apparirà un codice da inserire per poi premere invio e basta. Android associerà senza problemi la tastiera. Vi consiglio comunque di impostare il layout corretto dal sistema operativo del vostro dispositivo per essere sicuri di scegliere la giusta mappatura dei tasti. La cosa incredibile che rende impara con Pokémon l'avventura tra i tasti una vera esperienza poraccia è che il bundle lo si trova a un prezzo stracciato e senza alcuna difficoltà. Solitamente esperimenti del genere diventano rari soprattutto se non vengono diffusi su tutti i mercati o magari disponibili solo nei circuiti dell'usato dove è difficile trovarli in buone condizioni. Avventura tra i tasti invece è sempre disponibile su Amazon con un prezzo che varia tra i 5 e i 10 euro. Un affare imperdibile se avete bisogno di una tastiera aggiuntiva o pensate che una periferica bluetooth potrà tornarvi utile prima o poi. Vi lascio ovviamente in descrizione il link da cui acquistarla se volete sostenere il canale senza alcun costo aggiuntivo. Insomma non sarà la fine del mondo ma avventura tra i tasti è un bundle che sono felice di aver aggiunto in collezione. A un prezzo poraccio si può recuperare un interessantissimo esperimento a tema Pokémon e se siete dei fan sfegatati credo che un acquisto del genere sia praticamente obbligatorio ma in più può diventare un oggetto utile in ben più di una situazione. Sì insomma per una volta collezionisti ma con criterio. Insomma poracci cosa ne pensate di questa periferica? La conoscevate? Ce l'avevate già in collezione? Come al solito vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere se vorreste vedere altri video del genere incentrati su accessori e periferiche improbabili. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Impara Michele Avventura Ciao! RANIDOS!